Dobbiamo prendere quelle noccioline prima che tutto il parco se ne accorga. Rivediamo il piano. Questi siamo noi, questo è il carretto, noi rapiniamo il carretto e ci abbuffiamo e sgranocchiamo per tutto l'inverno. Che cosa guardi? Ah, fantastico! Abbiamo compagnia! Ok, dobbiamo muoverci. Entra nel secchio. Ciao da Valeria. Dovete rispettare tre regole. Non fateli bagnare, non fateli mangiare dopo la mezzanotte e non esponeteli alla luce del sole. Di chi sto parlando? Ma dei gremlins, esatto. Warner Brothers sta accelerando per portare a termine in tempi brevi il remake di questo cult anni Ottanta. Non è ancora chiaro se il regista Joe Dante e il produttore Steven Spielberg saranno coinvolti in questo progetto. Tuttavia senza Spielberg come produttore esecutivo sembra che il remake non si materializzerà e noi vi terremo aggiornati. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in uscita e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!